Si è concluso da poco a questa edizione del torneo dei territori in Toscana, denominato Equilibrium Cup, manifestazione che ha avuto un grosso successo e una grossa risonanza, per cui siamo veramente felici a livello di Consiglio federale e speriamo che il tutto prosegua con passaggi successivi in modo che portino sempre la Toscana a certi livelli. Al termine di questi due giorni del Trofeo dei Territori siamo molto contenti per il coinvolgimento di 220 atleti, di una cinquantina di tecnici e di una quarantina fra arbitri e osservatori. Quindi un movimento che ha superato le 300 unità appassionati di pallavolo da tutta la Toscana, è sicuramente una manifestazione di riferimento per la nostra regione ed è la dimostrazione di come sia sano il movimento giovanile e con la prospettiva sicuramente di una maggiore crescita. Grazie!